Matteo Migliori, hai detto oggi, soprattutto hai coronato un campionato esemplare è stata una bella gara, come ho detto un'altra volta, sono quasi noioso ma ringrazio la tredesima volta il giovane perché mi ha quasi obbligato a fare questo sport e lo ringrazio ovviamente perché mi sono divertito è stata una stagione fantastica e poi da quando ho preso il suo quadro sono ancora più divertito perché è un pezzo veramente performante e quindi in media di così non poteva andare due vittorie anche oggi, un grande in bocca al lupo ai miei due compagni d'avventura Mauro Perazzolo e Mattia Pappa che si sono fatti male durante la manifestazione e vi faccio i complimenti da solo perché penso che è stato molto bravo